In premesse, in premesse, la verità non esiste. Parlate da solo. Mettetevi a sedere. Io non parlo da solo. Io parlo tra me... e me. Buongiorno. Ah, oggi non svegliarla. La vicerita. Perché tanto la pizzerita non c'è più nel suo letto. Non c'è più. Stanotte era strana. Dice che voleva morire. Proprio così ha detto. E che se doveva morire... ci sarebbe piaciuto andare a morire... alla gola dell'Alcantara. E voi niente fate? Sto facendo, sto facendo. Sto facendo. Ma che cosa avete in mente di fare ora? Preparo una tazza di caffè e tieni la bocca chiusa. E preparo una tazza di caffè anche per la signora Cettina. Cettina? Sì. Oh, ma ciossa mia. Ma allora, Roberto... Eh. Hai visto come correva? Era disperato. Dice che andava alle gole dell'Alcantara. E' stato più facile per quando potessi immaginare. Oddio, ho capito tutto! Ho capito tutto! Che vuoi? In modo! Don Vito, non fate troppo lìa! Ehi, vatti, vatti! Ehi, vatti! Ehi!